Da oggi, entrare in Europa è un gioco! Se non riesci ad orientarti, esiste un network presente in più di 50 paesi che può aiutare la tua impresa! Raggiungilo in Camera di Commercio, il tuo punto di contatto Enterprise Europe Network a Torino! Acquista energia, guadagna bonus e trova la tua strada per l'Europa! Grazie alla rete Enterprise Europe Network, trova i tuoi partner tecnologici e commerciali e fai decollare la tua impresa! Enterprise Europe Network Play now! hai hai si sei